3 spettacolari easter egg in Star Wars Jedi Survivor Durante un combattimento contro un gruppo di Stormtrooper, possiamo vedere malamente parcheggiato uno Speeder. Se vi sembra familiare, è perché si tratta di un modello identico a quello utilizzato da Anakin durante l'inseguimento nell'attacco dei cloni. All'interno di questa caverna, bisogna arrampicarsi grazie alle radici. In cima, troveremo un passaggio ben nascosto, dietro il quale si cela un lunghissimo tunnel. Dopo averlo percorso, sbucheremo in una grotta, in cui alcuni droidi stanno eseguendo il ritratto di questa creatura, la quale, devo dire, posa anche con un certo stile. I risultati comunque sono piuttosto discutibili. Ad un certo punto dell'avventura, ci troveremo a fronteggiare il temibile Rancor. In omaggio alle gesta di Luke nel ritorno dello Jedi, possiamo utilizzare la forza per scagliare un osso tra le fauci del mostro, in modo da stordirlo per qualche secondo e farlo incazzare ancora di più.